La trasmissione di punta sportiva di Sky Quando allo sport fa da motore alla promozione La popolare trasmissione di Sky Sport e calciomercato l'originale che aveva in onda dalle 23 alla mezzanotte di tutti i giorni da lunedì al venerdì grazie ad un finanziamento regionale per un'intera settimana impianterà i suoi studi e le sue telecamere a Fano e precisamente all'interno dell'ex chiesa di San Francesco Si parlerà ovviamente delle dinamiche del mercato che interessa il mondo del calcio con ospiti molto noti tra ex giocatori di serie A e giornalisti ma si presenteranno anche le bellezze di Fano con immagini del Pincio, della Rocca, della Corte Malatestiana, del Porto degli angoli più belli della città La trasmissione viene seguita anche da 400.000 spettatori a puntata e vanta un potenziale di 2 milioni di utenti come ha sottolineato il sindaco Massimo Seri per Fano è una grande occasione Parliamo di milioni di telespettatori poi si aggiungono quelli anche dei social media collegati a Sky Sport quindi veramente una grande vetrina per Fano in una location straordinaria di grande attrazione come hanno detto gli stessi giornalisti che conducono la trasmissione quindi per Fano, per le Marche, è una grande occasione La presenza a Fano da lunedì a venerdì prossimo è stata sottolineata anche come una grossa opportunità di promozione turistica dall'assessore Etienne Lucarelli Qua saranno con noi ovviamente Alessandro Bonangia, Luca Di Marzio e Faina che sono i tre presentatori e tanti opinionisti come li conosciamo quindi ci sarà Costa Curta, ci sarà Minotti, ci sarà Marchegiani, ci sarà Aldo Serena ma poi martedì che sarà la festa dei vent'anni di Calcio Mercato l'Originale avremo in collegamento Cambiasso, Capello, Caressa, Beppe Bergomi quindi veramente tanti personaggi in collegamento per rappresentare al meglio le nostre bellezze Ad illustrare l'iniziativa sono stati anche i conduttori di Calcio Mercato l'Originale in collegamento da remoto Gianluca Di Marzio, Faina ed Alessandro Bonang che ha scoperto Fano, rimanendone suggestionato tanto da voler qui impostare alcune puntate della sua trasmissione che ha scoperto Fano, rimanendone suggestionato